Quando il presidente di quella che era allora la principale banca d'affare italiana, Mediobanca, venne sentito come testimone alla procura di Ravenna in relazione alle indagini sul falso in bilancio della Ferruzzi finanziaria, quando uscì, c'erano dei giornalisti che lo aspettavano, gli chiesero ma è vero che i bilanci della Ferruzzi erano falsi? E lui rispose io non ne ho mai visto uno che non lo fosse. Si riferiva ai bilanci in generale, non della Ferruzzi. Allora ci si dovrebbe attendere che il giorno dopo venga cambiata la Costituzione ed è evoluto il falso in bilancio dei tribunali militari, perché c'è una catastrofe, siamo di fronte a una situazione analoga a Caporetto, bisogna fermare in qualche modo quello che sta accadendo. Invece no, invece fanno una legge che trasforma il falso in bilancio in una contravvenzione. lo conserva come delitto di danno a querela, tranne in caso in cui siano società in borsa o altre ciazioni, a querela dei soci o dei creditori. Ora, a parte il fatto che i creditori non sono mai danneggiati dal falso in bilancio, i creditori sono danneggiati dall'insolvenza, se male, perché finché pigliano i soldi non sono danneggiati. I soci si dividono in due categorie, o sono di maggioranza o sono di minoranza. Se sono di minoranza sono all'oscuro o se sanno qualcosa sono disturbatori di assemblea. Se sono di maggioranza sono i mandanti del falso. Allora, rendere il falso in bilancio perseguibile a querela del socio, ho detto io una volta, è più o meno come rendere il furto perseguibile a querela del ladro. È ovvio che i processi non si fanno più. O, al massimo, viene esporta la querela sullo scopo di far, come si dice con una brutta parola attuale, calendarizzare il processo con i termini di prescrizione del diritto e rimetterla quando sono maturati quelli della prescrizione. Così si è ottenuto il risultato di ottenere l'impunità. Ne ha già fatto un cenno Francesco Greco in America e negli Stati Uniti, quando ci fu lo scandalo enero, invece hanno preso una strada del tutto diversa. Hanno detto, benissimo, i bilanci dell'aereo erano falsi. Facile, d'ora in avanti, gli amministratori vanno in tribunale e giurano che il bilancio che hanno presentato è vero. Se è falso, commettono il reato di pergiuri che l'ha punito con 25 anni di reclusione. C'è stato un fuggi-fuggi da Wall Street, nel senso che molte società europee, non solo italiane, hanno deciso di non quotarsi più perché evidentemente i loro amministratori non se la sentivano di andare in un'aula di tribunale a giurare che il bilancio che avevano presentato era vero. E allora qui c'è un primo problema. Perché vedete, la differenza tra un operatore finanziario e un giocatore di poker, io me la sono sempre immaginata in questo modo, l'operatore finanziario è uno che legge i bilanci e fa valutazioni meditate su quel che ha visto nei bilanci. Il giocatore di poker è quello che guarda in faccia l'avversario e cerca di capire che cosa ha in mano. Perché non si può fare nessun affidamento su quello che c'è scritto nei bilanci. E siccome da noi purtroppo non si può fare alcun affidamento su ciò che c'è scritto sui bilanci, le operazioni finanziarie sono quasi sempre partite di poker, con tutti i rischi che sono connessi. Facciamo un esempio, io non mi sono occupato della vicenda Parma, se ne ho occupato Francesco Greco, abbiamo già abbastanza processi ciascuno di noi per far sì che non ci interessiamo di quelli degli altri, quindi so solo quel che ho letto sui giornali, ma da quel che ho letto sui giornali ho scoperto, sempre che sia vero, ma credo di sì perché non ho mai visto le smentite, che il conto economico della Parma intanto stava in pareggio in quanto risultava avere un conto corrente, poi risultato inesistente, in una banca degli Stati Uniti su cui sarebbero stati depositati 5 miliardi di dollari. Ora, io non ho mai fatto il banchiere in vita mia, ma se fosse venuto da me qualcuno a chiedermi un prestito e mi avesse portato un bilancio in cui risultava che disponeva di 5 miliardi in contanti di dollari, gli avrei chiesto, scusi, ma è perché vuole un prestito? Perché non usa i suoi soldi? Sono costretto a pensare ad una di queste due alternative. La prima è che lei si accinge a fare qualche operazione talmente pericolosa di cui non mi vuol dire nulla, e allora perché devo assumere rischi se non sono a conoscenza delle operazioni che lei vuole fare? La seconda è che quel conto corrente le rende così tanto che lei preferisce pagare i miei interessi e guadagna con quelli che le danno. Ma allora perché devo dare i soldi a lei? Vado anch'io a prendere un conto lì. Che io sappia nessuno gli ha fatto questa domanda. Nessuno, anzi tutti gli hanno erogato prestiti. Eppure non era una cosa difficile, anch'io che non ho mai fatto il banchiere, sarei stato capace di fare questo accertamento. E allora c'è da pensare. O a ipotesi di corruzione privata di cui parlava prima Francesco Greco, o al fatto che ormai c'è una tale disaffezione, disinteresse verso i bilanci, che tanto non contano, che più nessuno li guarda. Ecco, tanto si sa che sono falsi e inutile perdere tempo a guardarli. Allora mi chiedo tutti questi poveretti che studiano norme di ragioneria, tecniche contabili, le società di revisione. C'è stato il periodo in cui le società di revisione erano un mito dell'economia. Poi abbiamo visto che in realtà si sono sgonfiate. Perché facevo cenno al falso in bilancio? Per due ragioni. La prima è che rimane un'ipotesi in cui per il falso in bilancio si rischia di andare in galera per davvero. Persino in Italia dove andare in galera è difficile. Perché guardate che se il reato è commesso prima del 2 maggio 2006, per fare un giorno di galera bisogna prendere più di sei anni di carcere. Perché tre se ne vanno con l'indulto e tre con l'affidamento al servizio sociale. Quindi ci vuole uno standard molto elevato. Ed è l'ipotesi di bancarotta fraudolenta. Se l'impresa fallisce, i falsi in bilancio diventano ipotesi di bancarotta fraudolenta. Francesco Grecovi ha già detto che si profila all'orizzonte una crisi finanziaria gravissima che potrebbe trasformarsi in una crisi economica to cure gravissima. Gli allarmi ritornano, io non so se ci saranno o non ci saranno. Ho notato insieme al professor Arnone in un articolo che abbiamo scritto qualche anno fa una certa ricorrenza empirica, poi io non sono né un sociologo né un economista né uno statistico, ma ho notato questa ricorrenza empirica tra l'esito positivo delle indagini e il ciclo economico. Può sembrare una cosa strana, ma cosa c'entra? Vedremo che poi ci sono molti altri aspetti in cui ci sono conseguenze economiche delle indagini o sulle indagini. Dunque la questione è più o meno questa e poi vi dico la spiegazione che ne do. Tanto bisogna fare una premessa, bisogna distinguere tra caccia e preda una delle obiezioni che ci veniva fatta a proposito della vicenda chiamata Mani Pulite era ma perché prima non facevate le indagini? Certo che facciamo anche prima le indagini, solo che non veniva fuori niente. Allora, io posso andare a caccia secondo le migliori regole dell'arte venatoria e non prendere niente. Posso essere un cacciatore magari non tanto esperto, ma mi imbatto nella selvaggine di passo e faccio una strage. Allora, più o meno facendo sempre le indagini, ci sono momenti in cui le indagini hanno esito positivo e in momenti in cui le indagini non hanno esito positivo. Se noi andiamo a prendere l'andamento dell'indice di variazione del prodotto interno lordo nella storia degli ultimi 30 anni, scopriamo delle cose strane. Per esempio c'è stata una caduta gravissima del PIL nel 75, quindi cominciata nel 74, e in quegli anni c'è stata una delle più gravi crisi politico-giudiziarie della storia d'Italia, lo scandalo dei petroli, in cui fu arrestato per contrabbando persino il comandante generale della Guardia di Finanza. Guardate che sono cose, una volta si diceva da Sud America, adesso non succedono neanche più in Sud America queste cose. Vabbè, ma comunque. Nell'81 ci fu un'altra grave caduta del PIL e ci fu lo scandalo P2. La terza grave crisi di caduta del tasso di variazione del PIL è il 92 e ci fu manipulita. Da 15 anni cercano di arginare le indagini giudiziarie, io non so cosa accade, se ci sarà un'altra crisi economica. Vedete, la ragione principale che io ritengo sia alla base di queste cose è che quando c'è la crisi economica il potere politico ha minor presa sull'opinione pubblica, non riesce a raccontare, per esempio, di essere composto di perseguitati dai magistrati che quando va bene fanno supplenza, quando va male fanno un complotto politico-mediatico-giudiziario per rovesciare la classe al potere e altre stupidaggini di questo genere che ogni tanto ripetono perché la gente è nervosa e si arrabbia ancora di più se gli dicono queste cose. Soprattutto gli imputati sentono che aria tira. Le nuove tre I sono queste, informarsi, incazzarsi e informare gli altri. Ciao!